Giochiamo di notte a StumbleGuys Dopo faccio Roblox Se mia madre forse mi fa stare ancora a sveglio Perché io domani c'ho scuola Però sapete che domani potrò fare 4 video Dopodomani Perché dopodomani è domenica E' sabato E potrò fare 4 video Anche se ne faccio di più il giorno Anche se ne faccio di più ragazzi Allora Facciamo una sfida Non posso toccare Il colore rosso No la skin rosa Alla speciale Mamma non parlare che sto facendo un video Cioè raga Devo dirglielo Che sto facendo un video Spera Ah non sta dormendo raga No perché se stavo dormendo mi stavo sveglio tutta la notte Però tanto Da questi giorni Riesco a dormire la notte E mi sto un po' sveglio a scuola Perché io dormo a scuola raga E non ve l'ho mai detto Un ragazzo è uno che ha fatto il trick della madonna E' il dragone E' la mia stessa camera Qualificato raga Dopo questo video Se mia madre mi fa fare un altro video Saranno due video Uno di Istanbul Che è questo Alla notte Cioè raga non ho mai fatto un video alla notte Tremme quello di Subway Surfers Cioè della serie Della prima serie di Subway Sì Sì vabbè Dimmi che non è l'ultima Sì è l'ultima Però dimmi che non è l'ultima E' solo una mia pensione E' però il dragone Non voglio dire brutte parolacce Perché? Perché sennò mi bannano B B B B B B B B B A B C D I E F H Qua ci sono solo Plo 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 ci stanno solo Prende me che sono una me E sono già morto Facciamo un'altra partita E dopo facciamo Roblox Raga troppo Sono le 22 di sera Io potrei mettermi alle 23 di sera a dormire Perché devo fare pure il video di Roblox Questa è la seconda partita che sto facendo alle 3 di notte Anzi alla notte Non dico proprio alle 3 di notte Perché sto dormendo alle 3 di notte Ovviamente dormo prima Dormo prima di fare video Questo è un trick che mi ha insegnato Sparks Raga Lo so se dite che Che Non è vero Non è vero Non è vero che me le ha insegnati Sparks Ma poi Insieme Insieme a Sparks Me le hanno insegnati Me le hanno Che sono riusciti Hanno insegnato tutti I trick Voglio Io di bonus Voglio Voglio di bonus Così posso fare La banniera dell'Italia Con i miei amici Perché sono 3 Quindi Sì 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 Faccio il ballo della vittoria Anche se non mi chiede Vabbè è bello Bipipipipipipipipi Ok Aiuto Ragazzi Allora tra un po' è Natale E sarà il 2023 Da 2023 Farò 6 video al giorno e anzi se arriviamo a punto iscritti farò 6 video al giorno così mi stangerò di più e li farò pure la notte come si permettono a tirarmi un pugno vabbè ragazzi dicami se nel nuovo pass se non c'è il cuore e c'è il cuore no perché io non lo so perché io non ho sbloccato il cuore e io prima c'avevo l'account era del 2022 io giocavo dal 2022 mi chiamavo Salvone dal 2022 che ci gioco però questo è un altro mio account in cui ho shoppato nell'altro mio account del 2022 del 2021 perché sono stato due anni ero un pro player però adesso non sono più un pro player ecco questa mappa non sono proprio pro meh speriamo di vincerla manco se uso le hack riesco a qualificarmi in questa mappa manco se uso le hack manco mo quello che fa pure il tricky che flexa che cazzo flexa non flexi lo sai che non si flexa su ste malebo io sono super mario pit patate barico ci cc l'oda l'oda allora il video finisce qui perchè sto scelerando un botto il mio primo video della notte domani faccio 4 video perchè dopo la scuola dopo la scuola faccio 4 video poi dopo domani visto che domani è quasi sabato quindi farò 5 video non arriveremo a 100 iscritti farò 6 video al giorno che sono tantissimi mi stangero